Ciao a tutti i fiamme, benvenuti in questo nuovo episodio della rubrica di Fiamma di Prometeo. Eccoci, allora, dopo la pesantezza della storia di settimana scorsa, per chi non l'avesse vista lascio il link in descrizione, veniamo a una storia un po' più leggera, anche se comunque il morto ci è scappato. È una storia molto bizzarra, l'ho trovata quasi per caso. I soggetti sono la mafia, un braccio e uno squalo. Via col video. Lo squalo tigre di 4 metri al Khoji Aquarium di Sydney, in Australia, si stava comportando in modo strano. Aveva perso l'energia e l'appetito che aveva mostrato quando era arrivato per la prima volta alla struttura circa una settimana prima, il 17 aprile 1935. Si muoveva lentamente lungo i bordi della sua piscina di 34 metri quadri, sbattendo contro le pareti e affondando nella vasca, dove nuotava come se qualcosa lo appesantisse. Ben presto, rivelò esattamente cosa fosse quel qualcosa. Con un movimento improvviso, lo squalo dimenò il corpo e sputò il contenuto dello stomaco. Quando la schiuma brunasta si sparse, la folla di ospiti dell'acquario vide qualcosa che li fecerà brevedire. Un braccio umano, parzialmente digerito, galleggiare sulla superficie della piscina. Gli australiani non avevano bisogno di una scusa per incolpare uno squalo per la morte di qualcuno nel 1935. Quell'anno, una serie di attacchi di squali terrorizzò la costa sudorientale e i pesci di grandi dimensioni erano visti come divoratori di uomini. Quando il residente dell'acquario rigurgitò il braccio disincarnato, molti pensarono che fosse la prova di un altro incontro mortale con gli squali. L'incidente, tuttavia, divenne più inquietante e strano man mano che emersero ulteriori dettagli. Il rapporto del medico legale rivelò che il braccio non era stato morso, ma tagliato di netto con un coltello. Ciò significava che lo squalo che aveva vomitato i resti era in parte innocente nell'apparente omicidio. L'unico testimone a cui la polizia aveva accesso non era in grado di condividere la sua storia, ma non avevano bisogno della testimonianza dello squalo per andare avanti. Le impronte digitali e un tatuaggio sul braccio mozzato diedero loro la possibilità di risolvere uno dei misteri più bizzari d'Australia. I residenti di Sydney temevano sicuramente l'avvistamento di uno squalo sulla spiaggia dopo l'estate del 1935, ma erano anche ansiosi di vederne uno in cattività. Bert Hobson, il proprietario del Cogì Aquarium, anticipò il desiderio del pubblico mentre pescava con suo figlio Ron a largo di Cogì Beach a Sydney a metà aprile di quell'anno. Un piccolo squalo a cui stava puntando attirò uno squalo tigre di oltre 4 metri e una tonnellata che rimase intrappolato nella sua rete. Dopo aver portato a riva il mostro, decise di rendere il protagonista della sua attrazione di Sydney. La nuova mostra si rivelò a proprio ciò di cui il Cogì Aquarium aveva bisogno. In seguito alla demolizione del vicino Molo, che aveva ospitato un teatro da 1400 posti, il traffico pedonale nell'area era diminuito, ma con un temibile squalo tigre in mostra, le persone ebbero improvvisamente un motivo entusiasmante per affollare di nuovo l'acquario. La frenesia attorno alla creatura raggiunse il picco durante l'Anzac Day, una festa simile al Memorial Day negli Stati Uniti. Nel loro giorno libero, molte persone acquistarono un biglietto per il Cogì Aquarium e si diressero verso la vasca degli squali tigre. Dopo aver letto sui giornali i titoli degli attacchi di squali per tutta l'estate, sarebbe stato liberatorio vederne uno da vicino in un ambiente sicuro. La creatura prigioniera ricordava il dominio dell'umanità sui mari, almeno fino al momento in cui sputò un pezzo di carne umana. Narcisse Liu Yang, un correttore di bozze per il Sydney Morning Herald, era lì quel giorno. Ero a tre o quattro metri dallo squalo e ho visto chiaramente uscire dalla sua bocca una copiosa schiuma marrone che aveva un odore davvero disgustoso. Ha raccontato. Oltre al braccio lo squalo vomitò anche un uccello, un topo e un carico di letame. Come mostrò il rapporto del medico legale, qualsiasi caratterizzazione dello squalo come «mangiatore di uomini» si rivelò infondata. Ciò non significava che non ci fosse nulla di cui aver paura. C'era ancora un assassino a piede libero. Ma prima di poter intracciare l'autore, le forze dell'ordine dovevano identificare la vittima. Edwin Smith stava leggendo cos'era successo al Cogia Aquarium quando si imbatte in un dettaglio che lo fece riflettere. La descrizione di un tatuaggio distintivo che marchiava il braccio recuperato dalla piscina degli squali tigre. Situato sull'avambraccio della vittima, raffigurava due pugili uno di fronte all'altro con i pugni pronti a combattere. Smith pensò immediatamente a suo fratello James che aveva la stessa immagine tatuata nello stesso punto e che era scomparso da diverse settimane. Sebbene scioccante, la notizia che Jim Smith fosse stato assassinato e fosse diventato un pasto per uno squalo non era del tutto incredibile. Il 45enne inglese residente a Gladysville in Australia gestiva un bar locale e aveva una storia sia come criminale che come informatore della polizia. Dopo una carriera da pugile fallita, ottenne lavori saltuari nell'area di Sydney. Oltre a dirigere il bar, lavorò anche per un magnate della costruzione di barche e boss del crimine di nome Reginald Holmes. Holmes usava la sua attività di successo come copertura per diverse operazioni illegali. Con i suoi motoscafi trasportava droga dalle navi che attraversavano il porto di Sydney per venderla in città. Era noto anche per falsificazioni e truffe assicurative che Smith aiutava a eseguire. Uno dei più famigerati raggiri di Holmes riguardava la distruzione di New York eccessivamente assicurato. Dopo aver reclutato Smith per affondare di nascosto l'imbarcazione, Holmes presentò una richiesta di risarcimento. In seguito apprese che Smith aveva denunciato l'incidente come sospetto alla polizia e non ricevette niente dall'assicurazione. Ciò portò a un litigio tra i due uomini che venne esacerbato quando, secondo quanto riferito, Smith iniziò a ricattare Holmes. Smith venne visto per l'ultima volta bere e giocare a karate con Patrick Brady al Sessil Hotel di Cornulla la notte del 7 aprile. Con il progredire della notte, si trasferirono in un cottage che Brady aveva affittato in tallombi stritta. Quando un Brady dall'aspetto arruffato in seguito prese un taxi dal suo cottage alla casa di Holmes, Smith non era più con lui. Il braccio tatuato proveniente dallo squalo fece luce sul mistero della scomparsa di James Smith. Edwin chiamò la polizia per collegare il tatuaggio dell'arto al fratello scomparso. Gli agenti delle forze dell'ordine, che avevano le impronte digitali della vittima, utilizzarono una nuova tecnica forense e furono in grado di abbinare la mano a Smith. L'uomo era stato chiaramente vittima di un omicidio e gli investigatori avevano ora la loro pista da seguire. Ma anche con due sospetti, un movente e un braccio ammozzato, il caso era tutt'altro che chiuso. La polizia non aveva ancora le prove concrete necessarie per effettuare arresti in relazione alla scomparsa di Smith. Riuscirono però a portare Brady in centrale con accuse di falso non correlate al crimine. Alla polizia servirono sei ore di estinuanti interrogatori per convincerlo a confessare ciò che già sospettavano. Regidan Holmes era la mente dietro il complotto. Holmes deve aver sentito che la polizia gli stava addosso perché quando le autorità arrivarono a casa sua era già su un motoscafo nel mezzo del porto di Sydney. Riuscì a sfuggire ai suoi inseguitori mentre beveva una bottiglia di liquore che aveva preso prima di fuggire. A un certo punto fermò la barca, si alzò davanti a un gruppo di spettatori che si erano radunati per assistere all'inseguimento e lanciò un avvertimento apparentemente senza senso. Jimmy Smith è morto e ne è rimasto solo un altro. Se mi lasciate fino a stasera lo finirò. Poi si sporò con un colpo alla testa e cadde in acqua. Per un momento sembrava che il caso fosse arrivato a un punto morto ma miracolosamente Holmes sopravvisse. Il proiettile gli procurò una ferita non letale alla fronte e fu in grado di risalire sulla barca. Dopo un drammatico inseguimento i poliziotti arrestarono finalmente Holmes ma tirargli fuori una confessione si sarebbe rivelato altrettanto difficile. L'uomo identificò Brady come l'assassino di Smith e si dipinse come una vittima di un ricatto. Secondo la sua storia Brady aveva agito da solo mentre uccideva e smembrava Smith nel suo cottage in talla ombi stretta. Presumibilmente scaricò la maggior parte delle parti del corpo in mare ma si tende il braccio come minaccia per Holmes. In questa versione degli eventi Brady avrebbe portato l'arto a casa di Holmes avvertendolo che sarebbe stato il prossimo se non gli avesse dato una paga più generosa. Holmes affermò di essere andato nel panico e di essersi sbarazzato del braccio gettandolo in acqua dove lo squalo tigre lo avrebbe ingoiato intero. Indipendentemente da quanto fosse veritiera questa storia gli investigatori conclusero che il braccio venne probabilmente consumato dopo essere stato smaltito nell'oceano. La sequenza temporale aveva un senso. Gli squali tigre hanno un tratto digestivo lento e il braccio sarebbe potuto rimanere nello stomaco dell'animale per un massimo di 18 giorni. È anche possibile che il braccio fosse all'interno del primo squalo più piccolo che Bert Hobson catturò prima che lo squalo tigre lo mangiasse. Ma la domanda su come sia stato separato dal corpo di Smith e finito in acqua rimane senza risposta. La mattina del processo a cui Holmes avrebbe dovuto partecipare la polizia lo trovò nella sua auto con tre fori di proiettile nel petto. Probabilmente aveva assunto sicari per fare il lavoro dopo aver stipulato una cospicua polizza di assicurazione sulla sua stessa vita. La polizza non avrebbe avuto nessuna validità se fosse morto suicida. Quindi usò le sue abilità per escogitare un'ultima truffa per la sua famiglia. Patrick Brady sopravvisse per assistere al processo per omicidio ma non fu il caso di facile chiusura che i pubblici ministeri avevano sperato vista l'assenza della testimonianza di Holmes e con prove meno incriminanti di quanto sembrava. Un braccio non era la prova di un omicidio sosteneva la difesa e non era giusto condannare un uomo del crimine quando era possibile che Smith fosse sopravvissuto. Brady venne assolto dalle accuse e mantenne la sua innocenza fino alla sua morte all'età di 76 anni nel 1965. Per concludere, Smith e Holmes non furono le uniche vittime del caso del braccio vomitato dallo squalo. Poco dopo aver regurgitato il braccio, lo squalo tigre del cogee aquarium venne ucciso e sezionato. L'autopsia fu uno spreco in quanto non rivelò ulteriori parti del corpo o risposte alle domande sollevate dal curioso incidente. Anche se molto è stato chiarito da quel giorno al cogee aquarium del 1935, probabilmente non conosceremo mai la storia completa di ciò che avvenne la notte della scomparsa di Jim Smith. Eccoci fiamme e con questo abbiamo concluso questa bizzarra storia avvenuta ormai quasi 90 anni fa. È una storia molto strana, sicuramente è stato ucciso, è schericato in mare, i resti poi è impossibile trovarli nell'oceano. Poi ovviamente c'è stato il caso che il braccio è stato mangiato dallo squalo e da qui si è aperto il cinema. Perché se il braccio non fosse stato ritrovato, Smith sarebbe dato per scomparso e mai più ritrovato. Come migliaia e migliaia di altri casi di sparizione. Alla fine nascondere un corpo è semplicissimo, il mondo è immenso. Quindi io credo che appunto il ritrovamento del braccio è stato proprio un caso fortuito che poi ha aperto tutta una serie di indagini con grande sfortuna dell'assassino. Che secondo me era il socio Patrick Brady, avevano probabilmente litigato o era in combutta con Holmes. Fatto sta che Brady è comunque ne è uscito innocente. Voi come al solito fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!